La situazione della sanità Umbra è critica. I lavoratori non ce la fanno più, ma i tanti problemi che avevano segnalato ad ottobre, aprendo l'avvertenza regionale, sono ancora tutti lì. È tutto fermo, a denunciarlo sono i sindacati riuniti in assemblea con le delegate e delegate delle varie aziende sanitari presso l'ospedale di Pantalla. Alle oramai ben note carenze di personale, hanno sottolineato, si aggiunge il blocco totale della contrattazione integrativa e il nulla di fatto sulla stabilizzazione dei precari. Ormai, dicono, cominciano a mancare in alcuni importanti presidi ospedalieri anche strumenti e materiali sanitari basilari come il gel per le ecografie, per non parlare della manutenzione ordinaria assolutamente carente.